La Roma torna in Champions, il suo sentimento di tornare per voi e per la squadra in Champions? Certo, penso che questo era un obiettivo già dalla prima giornata che abbiamo messo in questa stagione e oggi abbiamo raggiunto questo obiettivo importante per la società, importante per la città, per i tifosi e la Roma secondo me deve andare da giocare queste competizioni importante per la Champions, quindi sono contento per questo traguardo. Chi ti dà questa capacità mentale di essere sempre concentrati? Oggi la Juve ha vinto di nuovo, sembrava veramente, no? Oggi poteva essere una partita magari affrontata con una testa diversa. Invece sembrate veramente, dalla prima all'ultima giornata, sembrate sempre iperconcentrati su ogni partita. Questo è importante perché dobbiamo fare il nostro lavoro, non pensare alle altre. La Juve è avanti perché ha approfittato dei nostri sbagli. Penso che quando siamo concentrati ogni partita e noi sbagliamo paloni facili, penso che sempre alla fine portiamo tre punti. Oggi non è stato diverso, sono contento per quello che abbiamo fatto fino adesso. Grazie. Grazie. Ok?